Grazie, grazie Virginia, grazie Virginia, care amiche, guardi con noi parlano tutti, ascolti, non si scaldi, ascolti, su questo qui, dopo la faremo pure parlare, ci dirà le sue opinioni, con me parlano tutti, quindi stia tranquillo, non lo so con gli altri se la fanno parlare, amiche, amici, allora voi lo volete solo disturbare, vi ho detto che dopo vi farò parlare, ok? Care amiche, care amiche, senta c'è il banchetto della Lega qui, faccia della cortesia, guardi, sono 10 metri, forse, gli chiedere 49 milioni e di tutte le fesserie. O anche se era buono il mojito che ha bevuto ad agosto. No, lì ancora non si è ripreso, allora scusate, cari amiche, cari amici.